Il nome che noi portiamo è una lunga, è una lunga, è una lunga, è una lunga, è una lunga. Benvenuti, Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, amo. Grazie. ...di schio che si sono impegnati in questi mesi in una ricerca costante, perché è stato anche pieno di sacrificio, con tanta generogità, hanno cercato di realizzare e di raccogliere in questi tre volumi tutti i caduti della prima e seconda guerra mondiale che noi adesso lasciamo qui, per tenere sempre vivi e presenti i nostri cari del passato. Qui ci sono i caduti della prima guerra mondiale, qui i caduti della seconda guerra mondiale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Proverta, proverta, proverta Proverta, vittami ciacchietti, vittami ciacchietti Proverta, proverta, proverta Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tu, madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti. Tu, che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.